Io sono Marta Cucchia e sono la pronipote di Giulietta Brozzetti e sono una tessitrice. Giulietta Brozzetti ha fondato questo laboratorio di tessitura nel 1921 e io sono la quarta generazione femminile di questa famiglia. Questa incredibile chiesa è la prima chiesa dedicata a San Francesco di Assisi della città di Perugia ed è antichissima perché del 1212 San Francesco dormiva in questo luogo e i francescani la costruirono durante la sua vita, è un luogo veramente mistico e speciale. Perugia era famosissima fin dal Medioevo per la produzione di tovaglie perugine. Questa tradizione è andata scemando nei secoli e è stata recuperata dalla mia bisnonna. Noi ancora conserviamo antiche tecniche tramandate in via orale. Per me è molto importante accogliere i clienti della Trafalgar perché così ho l'opportunità di raccontare la meravigliosa storia della tessitura umbra. Ed è fantastico spiegare quali sono le tecniche della lavorazione, vedere nei visi dei turisti l'emozione sorgere nel comprendere quale grande lavoro e quale grande storia c'è dietro questi tessuti. Quindi per me è una grandissima opportunità.